In materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, audiremo i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali CNCC. Abbiamo commissionato, non l'ho voluto scrivere ma ve lo dico, a Nomisma una ricerca socio-economica sul nostro mondo, sull'impatto del nostro mondo e oggi vi do in anteprima qualche risultato visto l'importanza e l'opportunità che ci concedete. Al nostro interno ci sono 36.000 negozi, questo è un dato nuovo e lo rivedremo dopo, occupiamo in maniera diretta, escluso l'indotto, quindi 587.000 persone, emerge che il volume d'affari totale generato dalla nostra industria, l'industria dei centri commerciali, è ben 139 miliardi, come vedete suddiviso fra 71 miliardi di valore diretto e poi l'impatto indiretto e l'indotto. Complessivamente impattiamo sul PIL italiano per l'8%, questi sono i dati della ricerca appunto che verranno ufficializzati il 12 di giugno, in via indiretta, solo considerando l'effetto diretto, lo vedete sulla destra, per il 4,1%. Quindi crediamo, siamo misconosciuti come realtà economica, ma crediamo, potete vedere, di avere un impatto consistente. Con il 18,4% i domenicali e i festivi sono il secondo giorno di fatturato della settimana. Il 18% sui valori che avete visto prima vogliono dire mettere a rischio, compromettere fino a 12 miliardi e 8 di fatturato diretto e stimiamo 12 miliardi e 1 di valore economico in termini indiretti ed indotto, quindi poco meno di 25 miliardi. La riflessione che io vi pongo per me è molto importante, non è tanto il valore assoluto. In questa fase economica le riflessioni sono due. Uno che dei 36 mila negozi, 9 mila sono negozi a gestione unifamiliare. Vi faccio un esempio, quando ho un bar piuttosto che un franchisee, un Carpisa, chiedo scusa a Carpisa per l'esempio, che è in franchising, è una famiglia che vive e lavora per quel negozio. Una differenza di fatturato così importante a volte è la differenza fra l'utile, comunque guadagnarci, sopravvivere di quell'attività economica. Questo vale anche però per la GDO. L'altro effetto, questa è una novità rispetto alla precedente audizione, abbiamo calcolato l'impatto che l'industria dei centri commerciali in termini di gettito erariale, dividendole fra imposte dirette, lo vedete, e imposte indirette. Abbiamo calcolato che l'impatto sul fatturato che abbiamo visto prima potrebbe generare una riduzione di gettito fiscale fino a 2 miliardi di imposte dirette e 2 miliardi e mezzo di imposte dirette sostanzialmente l'IVA. Andiamo all'occupazione, questi sono sempre i dati, vedete in alto, nomisma e invece l'impatto l'abbiamo calcolato alla nostra commissione, noi diamo lavoro diretto a 587 mila persone, 159 mila indirette e 37 mila indotto e valiamo circa il 30% degli occupati del commercio, 2-3% della forza lavoro italiana. Abbiamo leggermente rivisto, alla luce di questi dati, i nostri calcoli, sull'impatto complessivo che noi ipotizziamo se nella peggiore dell'ipotesi del disegno di legge presentato. Ecco, qui lo sottolineo, è ovvio oggi nessuno può dire da disegno di legge quante aperture, quante chiusure ogni regione farà. Noi abbiamo un range che va da 8 a 30, quindi le valutazioni che ho fatto, e ve lo anticipo già, sono state fatte nel peggiore delle ipotesi. La nostra occupazione è per il 70% femminile e per la maggioranza giovanile, cioè proprio le categorie occupazionali forse più da difendere oggi, più da stimolare in termini occupazionali. Non abbiamo calcolato sui 41 mila il tema dei dipendenti indiretti all'indotto, quindi l'impatto dei 41 mila è solo legato ai 587 mila che avete visto prima. Sottolineo un altro aspetto, per me è molto importante, è il tema della perdita occupazionale, soprattutto non in luoghi ad alta capacità attrattiva occupazionale, penso Milano, passatemi la battuta, o Roma, o che ne so, certe zone del Veneto, ma noi siamo in tutta Italia, generalmente nelle periferie, quindi andando anche a peggiorare magari situazioni occupazionali già di per sé difficile. Ci siamo anche interrogati su una possibile domanda che voi onorevoli potrete porci e dire ma se io riduco proporzionatamente le chiusure dovrei ridurre proporzionatamente il presunto impatto che voi dichiarate. Ecco, non è esattamente così e vi do tre casistiche perché il tema della non corrispondenza degli impegni delle singole persone con le date di apertura, se ho il battesimo del bambino e il centro commerciale è aperto giorno del battesimo non vado. Della necessità e difficoltà informativa e dell'effetto abitudine e delle scelte di impulso, non è che uno programma di andare al centro commerciale come le vacanze, lo decide spesso la mattina o la sera prima, quindi questi sono elementi che ci fanno dire che una riduzione delle chiusure, un aumento dell'apertura non ha un effetto proporzionale purtroppo sui dati che vi ho manifestato prima. Altre due domande e qui purtroppo i dati sono ancora in fieri, riguardavano se questo fatturato verrebbe recuperato gli altri giorni della settimana e che beneficio ne avrebbero i negozi dei centro città. Ecco, Nomisma su questa cosa le sta ancora elaborando, però vi posso dire che assolutamente non verrebbe recuperato e mi assumo la responsabilità di darvi questo numero, sapete quanto dal nostro sondaggio della ricerca di mercato condotta da Nomisma verrebbe recuperato i negozi di centro città il 6%, di quei numeri il 6%, quindi l'infetto sui centri città, sui negozi di centro città sarebbe a mio avviso praticamente nullo. Abbiamo ancora 5 minuti. Sì, velocissimo, purtroppo l'impatto si sta vedendo anche sul mondo immobiliare, noi valiamo circa il 25% di tutto il settore immobiliare, sottolineo 70% dei investitori sono investitori esteri, quindi attriamo capitale dall'estero per investire in Italia, rimanerci. Sul tema del turismo, il 30% dei intervistati ha organizzato una gitta per andare in un centro commerciale, poi ha visitato la città vicina, quindi siamo volano di turismo. Altro tema, il 69% delle persone in vacanza vanno a visitare il centro commerciale dell'area. Vado molto velocemente sul valore nazionale e sociale, queste sono le prime cose che emergono dalla ricerca, con la chiusura domenicale si impoverisce il livello dei servizi e viene meno un'opportunità di utilizzo di tempo libero. Adesso andiamo alla ricerca, questi sono i nostri dati, vedete le affluenze domenicali sul totale, il 19% è domenicale festivi, ricordiamo che noi attiriamo fra i 4-6 milioni di persone di nostri concittadini la domenica che liberamente ci vengono a trovare, ma ci vengono a trovare come? Questo è un dato interessante, il 79% dalla ricerca che vi ho citato prima, viene a visitarlo in compagnia, di cui il 60% quando parliamo di famiglia, con la famiglia, quindi è una destination legata a un vissuto familiare o con gli amici, quindi non si va al centro commerciale la domenica da soli, credo che questo sia un dato interessante. Non capiamo il tema del centro città rispetto alle periferie, questo vorrebbe dire ancora rendere sempre di più la periferia un luogo chiuso, un luogo meno vivibile. Il tema, l'infasi ormai centri sportivi, aeroporti, stazioni ferroviarie che si possono permettere di fare centri commerciali, perché ormai lo stanno diventando, molti di voi non vivete qua, prendete l'aereo, prendete le stazioni, stanno diventando centri commerciali, al di là di tutte le analisi di impatto strategico e viabilistico che noi dobbiamo fare quando facciamo un centro commerciale, e il tema del riposo domenicale, quindi c'è un tema di tutta la concorrenza. Il grande tema dell'online, chiudo, il dato certo è che questa riforma favorirebbe l'online, quello che vi chiediamo è questo, perché non facciamo un'analisi costi benefici. Questi numeri ve li abbiamo dati noi, li ha fatti i nomi, li li abbiamo fatti noi, li ha fatti in altre associazioni. Noi vi mettiamo a disponibilità tutto quanto perché una struttura statale possa certificare questi numeri e voi potete prendere quindi le decisioni, perché dovete prendere decisioni ovviamente, con la serenità maggiore consentita da dei numeri certificati. Chi vuole intervenire? Come vedete una ipotesi che non sia quella della proposta di legge in discussione, ma sia un'alternativa. La domanda specifica era, rispetto in particolare al testo, diciamo, in discussione oggi, il testo base e alle possibili differenze di normativa tra le regioni. Volevo capire se tra i soggetti che voi rappresentate questo rappresenta un'allarme che li mette in forte difficoltà o se è una cosa che ritengono di poter affrontare. Si parla di investimenti ridotti nel settore e nella relazione si fa riferimento anche all'incertezza normativa rispetto a questo tema. Quanto dipende da questo fatto, quanto dipende invece anche da un contesto internazionale che vede, ad esempio, negli Stati Uniti record di chiusure di centri commerciali. Visto e considerato che nella proposta di legge si parla di 26 domeniche di apertura e quindi non di 56. Se fossero 56 sono d'accordo che il fatturato potrebbe essere il 18% presumibilmente, perché poi ho dei dubbi delle perplessità sul fatto che la gente non sposti il consumo al sabato. Detto questo, essendo il 18% alla domenica il fatturato principale, non riesco a capire come fa a essere il 18% l'ammontare totale. Per me la posizione, già quella indicata a fede distribuzione, sarebbe già un sacrificio onorevole scuole, quindi per darle già un'indicazione. Credo che le soluzioni, se si vuole tutelare il piccolo commercio di città, è ovvio che se hai degli affitti alti non c'è un'organizzazione territoriale, quant'altro è dall'altra parte il lavoro domenicale e allora è un tema di contratti, dal mio punto di vista. Sul tema delle regioni ha colto un tema, ma qui non voglio aprire anche un altro, io le dico, quando incontro un investitore, mi metto il cappello della mia attività aziendale, incontro un investitore internazionale, ho investito in Lombardia, vado in Piemonte, è l'unica cosa che per loro non fa nessuna differenza che si parla l'italiano, perché la norma urbanistica cambia, la norma commerciale cambia. Vi do questo dato, lo saprete che le leggi commerciali in 20 regioni italiane sono 20 leggi commerciali diverse, quindi a me questo preoccupa un po' il tema degli investimenti, le dico, non è un dato scientifico, io sono andato al MIPIM, a Cannes, che è la fiera internazionale dell'immobiliare, è quello che gli inglesi, i francesi, i soliti, la barzelletta, ci dicono oggi, i dati sull'internazionale, ma le posso far avere, non sono così, in Francia non è così, in Spagna non è così, in termini di transazioni, purtroppo questo dibattito crea incertezza, voi lo sapete, l'incertezza non favorisce. Io ho fatto una valutazione nella peggiore delle ipotesi, perché né io né lei, il suo lodo, potrebbero tutte le 20 regioni posizionarsi sulle 8 aperture, che vorrebbe dire andare all'antemonti, o tutte quante andare sulle 30 addirittura, questo né io né lei possiamo dirlo. Dalla ricerca verrebbe fuori che fra il 50 e il 60% dei consumi, dei famosi 25 miliardi, si perderebbero. Perché sono consumi di impulso, perché il vissuto della domenica è diverso.